È una settimana che chiedo spiegazioni a questa maggioranza, che chiedo che il Presidente Marsilio venga a riferire a noi che siamo i rappresentanti di tutti i cittadini abruzzesi e abruzzesi stessi, visto quello che si sta vivendo all'interno della provincia dell'Aquila, eppure anche oggi in commissione nel Presidente Marsilio e nell'assessore Verì hanno ritenuto opportuno di presenziare. La questione è estremamente seria, all'interno della provincia dell'Aquila la sanità è totalmente paralizzata, abbiamo operatori sanitari allo stremo, abbiamo cittadini che non possono più accedere alle cure o se ci riescono accedono comunque a condizioni molto gravose rispetto alla situazione antecedente. Bastava che il Presidente Marsilio venisse a riferire sull'accaduto ma soprattutto sulle prospettive. Bastava dare una prospettiva a noi consiglieri e ai cittadini su quello che ci aspetta nei prossimi giorni e su quando potremo dire di uscire da questa emergenza. Eppure anche questa volta la maggioranza colpevolmente ha perso un'occasione per fare quello che è stata chiamata a fare dai cittadini abruzzesi, cioè governare Regione Abruzzo nell'interesse di tutti. Francamente questo è inaccettabile, io continuerò ancora a battere affinché il Presidente Marsilio e l'assessore Verì si assumano la responsabilità di raccontare ai consiglieri regionali e ai cittadini come stanno veramente le cose e quando il sistema sanitario della provincia dell'Aquila potrà tornare ad operare nella normalità.